Buonasera a tutti, qua siamo insieme al nostro cucciolo di quattro mesi, l'ondive transumante, semplicemente per un'operazione. Molto spesso i cuccioli, verso i due, tre, quattro mesi, hanno il problema del posizionamento dell'orecchio, perché molto spesso l'orecchio viene a mettersi, a trovarsi in posizione un po' troppo redrada, quindi a rosa. Per correggere questo difetto, nel pastore marremano-bruzzese, ci sono diversi modi. Noi utilizziamo quello del scotch, del nastro telato, che vedrò tranquillamente in farmacia, di 2,5 cm di spessore, quindi quello che dobbiamo fare è prendere l'orecchio del cucciolo e cercare di attaccarvi una striscia di circa 20 cm sulla parte mediana interna e fare allo stesso modo sull'esterno. Le due parti troveranno a destra radese.